SiCanta.com SiCanta.com Partiti Sai che mi hanno detto che si può dire bastardo in radio e quindi hai gli amici bastardi che ti ridono dietro adesso Molto bastardi Hai capito? Allora siamo in presenza di? Patrick E sul nostro sito SiCanta.com sarai? Patrick Il tuo nickname è proprio il tuo nome Perché sai che su questo sito poi noi metteremo il tuo video quello che faremo fra un secondino e quindi ci sarà la votazione Ti voterai? Hai già studiato come vincere il concorso? No. Sai che ci sono delle voti? Sai che andrai su Radio Dolomiti? No. Non so quando ma giovedì prossimo o quello dopo sarai su Radio Dolomiti E noi facciamo una serie di domande di routine facili Sei pronto? Sì. Per accedere al concorso Se non rispondi a queste domande non si può fare niente. Allora la prima domanda è quanto fa 6 per 3 più 3 21 6 nella media 4 secondi calcola che la metà delle persone non sa rispondere quindi ritieniti ok invece il Presidente della Repubblica? Napoletà Ah le sei tutte Ti hanno già suggerito? No. Sei loro Loro ti direbbero Berlusconi loro ti direbbero vero probabilmente Allora hai fatto altri concorsi nella tua vita? No. Questo è il primo concorso di canto karaoke quindi non sei un professionista sei un dilettante e cosa ci canterai stasera? Walter il Mago scusa? Walter il Mago di? di Liga di Liga a Bue certo è una canzone cos'è? è romantica o? Si è romantica è dedicata a qualcuno? no sai che l'ho sentito poche volte io? questa la tagliamo no non tagliamo niente te la metti questa te la metto tutto questa qua la metti solo mi ascolta siamo al Zanzibar salutiamo anche i nostri la compagine qua dell'organizzazione che è eletta e anche il disc jockey Gigi famoso Gigi e vai anche in altri bar a cantare? no no solo qui quindi un appuntamento fisso al Zanzibar che ce ne sono tantissime persone che vengono qua ho visto sì 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 ecco bene ti salutiamo e tanti auguro in bocca alle guardie si canta.com abbiamo il secondo cantante della serata Patrick che ci canta Walter il mago di Liga a Bue ok vai Patrick biancato non c'è perché i giudini voglia e altri che sono ci sono mi non è no ecco quello è Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Per un'amanzia così disse vale appena vivere Vai comparire una donna, vai a parire una donna Vai comparire una birra a noi se vuoi Vai comparire una donna, vai a parire una donna Vai comparire 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 una donna Con ilensione salvo Va comparire una donna Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.